musica 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 accelera il tempo? no allora time 0.40 0.40 41 questa è la velocità se schiaccio questo si aumenta la velocità si si quindi dormendo così aumenta la velocità umidità 37% temperatura 7 gradi allora luna e 15 sarebbero cosa? cosa? con la luce? ah c'è un altro accampamento niente interessante torniamo la vediamo di velocizzare non so se c'è un modo per velocizzare ma luna e 37 sarebbe luna e 37 sarebbe luna e 37 al mattino 108 forse sta velocizzando se 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 2 dobbiamo andare più veloce dobbiamo andare più veloce no ma sembra uguale comunque io vedo lì selezionando l'alba ma l'alba non è alle 2 forse questo è l'orologio forse questo è l'orologio di Cooper World comunque vabbè partiamo vediamo un po' sui 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 si vuole già vedere qualcosa dai sui 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 togliamo la lampada oh dove sei? prendiamo cosa avevo visto lì? ok quelle che sono? sono mucche vedete qua possiamo attaccare la mucche? no wow si potentissimo si cosa ci ha dato? cos'è? cos'è? è un'arma? scratten iron damage 3,4 questo in caso lo possiamo anche vendere andiamo a ammazzare un'altra mucca andiamo a ammazzare un'altra mucca allora così possiamo colpire così è soltanto vicino si questo qua è vicino lontano guarda guarda qua giù ci vanno multiplo fanno danno forte questi qua ok 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 aia ecco ripescato le mucche ecco ripescato le mucche e ok 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 wow wow grazie ok sono di nuovo rimorto mi hanno ucciso le mucche le mucche uccidono? e qua si aspetta dove erano le mucche? voglio ripiascare le mucche aia che botta dove sono le mucche? avevo perso le mucche aia cos'era quello? non mi da niente? niente dove sono le mucche? e ho perso maldita mucche cos'è? un fungo cos'è? se forza tu? oh troppo aia aia! scappa metti cu 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 perché? perché? perché così la posizione si puli no io scappo scappo che non mi piglia non mi lascia cosa vuoi? allora col tasto destro mi faccio... aaaah allora quindi col tasto destro mi carico di hp di mp di magia e poi la lascio invece così è diretto e mi carico io solo di che? di niente adesso sono fuori fuori rosa a che servono? ti piace il mio mago? si potete rosa potremmo essere altro che mago si chi è quello? aia 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 che botta sarà uno forte quello tu amico? dove sei? non ho mai scappato perché ha paura ha paura di me cos'è quello? alla statua dove è andato? c'è di nuovo l'accelente di cosa è forte? cerchiamo qualcosa di meno forte bene faccio un'altra cosa chi è quello cos'è quello cos'è la cosa ok allora vediamo questa cosa abbiamo preso e chiudiamo questo video da me il grande e perché sono diventato così perché allora da me il grande e potente odds è mister G ciao ciao